Grazie a tutti. Io voglio solamente ringraziare il comune per la disponibilità che ci danno tutti gli anni per fare questo festival di citeriano qua all'interno del convento. Ringrazio gli espositori che hanno aderito quest'anno, alcuni verranno domani, che ne mandano ancora 5-6 domani, nelle zone vuote saranno tutte piene. E poi un'altra cosa, ringrazio il signor sindaco di Casalione, lo vorrei qua dietro io, scusami, la vedo adesso. Sì, perché ovviamente abbiamo il patrocinio regionale provinciale della Camera del Commercio e basta, cosa dire? Ringrazio Lisa, ringrazio il rappresentante del Proloco, ringrazio il suo presidente, il signor sindaco di Casalione, Stefano, gli assessori e Lisa, ti lascio un telefono a dire qualcosa. Buonasera a tutti, intanto grazie, è sempre un piacere essere qua. Intanto porto i saluti da parte del nostro sindaco. Purtroppo, come ogni volta, abbiamo sempre tanti eventi e quindi ci dobbiamo dividere. Quindi oggi ho voluto essere qui e abbiamo altri sindaco e altri assessori, insomma, dispersi in altre manifestazioni. Che dire, per noi è sempre un piacere. È sempre un piacere mettere a disposizione i nostri luoghi, soprattutto per le nostre associazioni. Associazioni che sono veramente tante e sono veramente brave. Oggi volevo ringraziare invece la pianura, perché se siamo qui oggi è merito della pianura, e in particolar modo a Gerry. Gerry che è sempre un vulcano di idee e quindi un grandissimo, veramente, organizzatore. Quindi, grazie per questa cava per estirare del italiano. Abbiamo la via Belgarma, per cui un evento veramente particolare, perché salutare, soprattutto, giusto, salutare. E speriamo che, insomma, domani ci sia ancora più gente. Oggi ne abbiamo già tanta. Domani speriamo che ce ne sia ancora di più. Quindi, grazie, se dite, cominciamo quel taglio del nastro. Ok, allora, andiamo avanti quel taglio del nastro. Da qua. Ci siamo, ci siamo. Via. Non è fatto. All'inizio il testimo del tavolo, il testimo del italiano. Il testo di via Belgarma. E come buon auspicio, anche si guarda. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.